Io ebbi a fare anche la corte alla presidente della Finlandia, bisogna usare tutte le armi che siano a disposizione, quindi io rispolverando tutte le mie arti da playboy ormai lontane nel tempo, utilizzai una serie di sollecitazioni amorevoli. Oh, devi crescere, sei ancora troppo piccolo. Gradirà molto di provare oggi le donne nude in copertina rispetto alla renna fumicata che gli avrebbero offerto. Wow, wow.